ci sono quelle più dure e quelle meno dure solo che abbiamo 30 secondi perché c'è pubblicità io ho mani forti perché ho fatto musica maestro, grazie ginnastica artistica, sbarra bad ma che credi io possa fare qua? no, siccome Terence con due mani l'ha aperta grazie mi dispiace doverlo lasciare devo andare grazie ma spesso Grazie.